Ciao a tutti ragazzi sono Stefano Castiello e benvenuti in un nuovo video. Oggi voglio parlarvi di un nuovo bot che possiamo utilizzare con Telegram che permette di guadagnare piccole frazioni di Bitcoin. Possiamo poi prelevarle tramite il nostro wallet o scambiarle in euro direttamente oppure convertirle in altre cripto o semplicemente tenere Bitcoin. La prima cosa fondamentale che vi invito a fare è l'accesso al mio canale Telegram ufficiale, per adesso siamo a più di 1400. Dico questo perché lì pubblicherò il link per fare l'accesso a questo bot. In descrizione di questo video trovate il link per fare l'accesso diretto al mio canale Telegram. Prima di iniziare però vi invito subito a lasciare un bel mi piace per supportarmi con il famosissimo algoritmo di YouTube. E se non siete iscritti iscrivetevi anche al canale per continuare a seguirmi e guardare altri contenuti del genere. È da un paio di mesi che purtroppo le applicazioni di cui parlavo spesso su questo canale non stanno più pagando. Io ho spesso prelevato 20 euro su PayPal, 20 euro in buoni Amazon e da moltissimo tempo che ho richiesto i pagamenti non mi sono mai arrivati. E io spesso pubblicavo queste prove di pagamento sul mio canale Telegram principale, per chi mi segue da tempo già lo sa. Però purtroppo, ripeto, è da due mesi che queste applicazioni non pagano come prima o almeno nel mio caso non arrivano i pagamenti. Per questo ho deciso di introdurvi i bot Telegram che sono per adesso funzionanti e paganti. Ci ho fatto un prelevo qualche giorno fa tramite il bot di Litecoin. Tramite questo bot c'è possibilità di guadagnare piccole frazioni di Litecoin che possiamo poi prelevare tramite sempre il nostro exchange. Ripeto, la prova di pagamento è su Telegram. C'è anche un video specifico al riguardo dove parlo di questo bot che lascio qui in alto. Se siete interessati a guadagnare Litecoin tramite un bot Telegram, questo qui fa per voi. Oggi invece voglio parlarvi del bot che permette di guadagnare Bitcoin. In questo caso ringrazio Daniela che mi ha consigliato questo bot. In qualche mio video passato ho detto che sono aperto a qualsiasi proposta per quanto riguarda bot Telegram, applicazioni e metodi di guadagno in generale. E infatti spesso vi ho parlato di progetti proposti dai miei iscritti e soprattutto utilizzo anche i link di riferimento delle persone che me lo propongono perché è giusto che sia così. Il bot in questione si chiama BTC ClickBot. Qui guadagneremo Bitcoin molto semplicemente visitando siti, entrando a far parte di chat, di Telegram e inviando anche messaggi agli altri bot. Per iniziare basta digitare Start e subito uscirà questa schermata. E questo qui è il menu che compare. Oltre a svolgere le semplici azioni possiamo anche visualizzare il nostro balance, il nostro portafoglio, invitare amici, ci sono anche le impostazioni eccetera. Tra poco vi spiego tutto con calma. Per visitare i siti basta cliccare qui su Visit Sites e vediamo che bisogna visitare questo sito cliccando qui su Go to Website e restare per almeno 10 secondi su questo sito. Io adesso sto aspettando che passano i 10 secondi. Qui in basso a destra vedete che ci ho scritto Please stay on the site for at least 10 seconds. Quindi ok, sono passati i 10 secondi. Torniamo su Telegram e vediamo che ho guadagnato 0.0000000280 BTC per aver visitato questo sito. Possiamo fare questo tantissime volte. Poi possiamo anche sfruttare i message bots. Clicchiamo su message bots. Dobbiamo inviare il messaggio utilizzando la funzione Start Function. Una volta fatto questo poi riceviamo la ricompensa. Basta cliccare qui su message bot. Andiamo su apri. Ed ecco qui ragazzi ho ricevuto una ricompensa per aver fatto questa cosa. Cosa molto importante per ricevere la ricompensa del messaggio bisogna inoltrare al bot di Bitcoin il messaggio che avete inviato all'altro bot. Ad esempio basta prendere il primo messaggio che è arrivato tramite il bot che abbiamo aperto, condividerlo, cliccare su inoltre. Lo inoltreamo a BTC Clickbot e riceveremo in questo caso la ricompensa. Quindi è davvero importante fare ciò se non riceveremo nulla. Invece per entrare a far parte delle chat basta cliccare qui su Join Chats. Poi andiamo su go to channel, mettiamo sempre apri. Entriamo a far parte di questo canale. Torniamo indietro su BTC Clickbot. Clicchiamo poi qui su Join. Ed ecco qui il gioco è fatto. Ho guadagnato altri satoshi per aver fatto questa cosa. Quindi ragazzi questo bot funziona molto bene. Tutti i compiti che svolgiamo vanno in porto velocemente e verremo subito ripagati. Ad esempio per vedere il nostro balance basta cliccare qui su balance e vediamo i Bitcoin adesso disponibili. Nel mio caso 0.00000014 BTC che corrispondono a qualche centesimo. Lo so che tramite questi bot si guadagnano pochi centesimi svolgendo queste attività. Però sono comunque Bitcoin gratis ragazzi. E se utilizzate il bot di Litecoin insieme a questo bot qui e tantissimi altri bot di cui ho già parlato sul canale. Vi invito a guardare qualche video vecchio. Ripeto utilizzandoli tutti insieme potreste ricevere un guadagno abbastanza elevato. Soprattutto il discorso per quanto riguarda il Bitcoin e il Litecoin è diverso perché sono criptovalute che possono nel tempo aumentare di valore. E quindi potreste ricevere molti più soldi di quanto adesso ne avete. Utilizzateli tutti insieme e riuscirete a ricevere a fine mese un piccolo guadagno. Adesso voglio mostrarvi come prelevare. Basta cliccare qui su balance poi andiamo su withdraw in alto a destra. E vediamo che il minimo prelevabile è 0.00005 BTC che sarebbero 5.000 satoshi. Non so in euro quanto corrispondono però è abbastanza poco. E soprattutto ragazzi per farlo vi conviene avere un exchange. Ad esempio io per prelevare Litecoin ho utilizzato Young Platform. È davvero molto semplice. Basta selezionare la criptovaluta in questione. Ad esempio utilizzeremo Bitcoin. Copieremo la chiave privata del nostro portafoglio di Bitcoin. La incolleremo tramite questo bot. Ci verranno inviate così queste piccole frazioni di Bitcoin. Nel caso di Litecoin già ho fatto il prelievo e ho mostrato anche sul mio canale Telegram come fare. È davvero molto semplice. Verrà chiesto di inviare ripeto la chiave privata. Confermerete con yes la transazione. Pagherete anche una piccola fee per adesso non so quanto ammonta per il Bitcoin. E riceverete poi la somma in pochissimi minuti. Vi ripeto di fare l'accesso al mio canale Telegram ufficiale. Perché lì pubblicherò il link per registrarvi a questo bot. Per entrare a far parte di Telegram il link è qui in basso in descrizione. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questo bot. Se già lo utilizzate. Se già avete prelevato. Perché sono curioso. Adesso io continuerò a testarlo e vedrò se effettivamente paga o meno. E nel caso in cui ricevo i soldi sul mio wallet pubblicherò come al solito sul mio canale Telegram la prova di pagamento. Ah cosa molto importante c'è anche possibilità di invitare gli amici. Andando sempre dal menu cliccando su referrals qui possiamo copiare il nostro link affiliato. E per ogni persona che entra a far parte di questo bot con il nostro link guadagniamo il 15% dei loro guadagni. Che non è assolutamente poco. Quindi il consiglio che posso darvi è assolutamente utilizzare questo bot Telegram con Bitcoin. Perché l'andamento di Bitcoin in questi ultimi anni è abbastanza positivo e potrebbe salire a dismisura. E queste piccole frazioni potrebbero diventare soldi veri e propri tra 2-3 anni. Ovviamente non diventerete ricchi con questi metodi però imitando gli amici utilizzando questo bot tutti i giorni insieme agli altri bot potreste ricevere a fine mese una buona somma. Se siete minorenni potete anche fare il prelievo tramite un exchange che si chiama Fouchet Pay. Moltissimi iscritti già lo utilizzano. L'ultima cosa davvero importante ragazzi se non riuscite a fare tutte queste transazioni al mio canale Telegram principale c'è possibilità di collegarsi a un altro gruppo. Dove io faccio parte ci sono moltissimi iscritti ci scambiamo opinioni eccetera. Io spesso vi aiuto e lì potete comunque scambiarvi opinioni e sicuramente riceverete una mano per quanto riguarda il prelievo. Quindi la cosa importante da fare è fare l'accesso al gruppo. Comunque grazie mille a tutti per la visione di questo video. Se il video vi è piaciuto vi invito a lasciare un mi piace per supportarmi con il solito algoritmo di YouTube. Se non siete iscritti iscrivetevi al canale per continuare a seguirmi. Noi ci vediamo al prossimo video ciao.